con il plasma covid di tutta la regione. La banca regionale del plasma cresce nei corridoi dell'azienda ospedaliera di Padova. Qui nell'unità operativa immunotrasfusionale del monoblocco sta prendendo forma il piano di conservazione del plasma ricavato dal sangue di pazienti covid ormai guariti. Proprio all'ospedale di Padova l'impiego di questo elemento ha dato buoni risultati nella cura dei pazienti infettati dal SARS-CoV-2 che avevano sviluppato la malattia. Ora la raccolta è iniziata. Dall'11 maggio la regione ha fatto pervenire nelle case dei cittadini guariti una lettera recante l'invito alla donazione. Una chiamata a cui hanno risposto a decine inondando i centralini dei centri prelievo del territorio. Ad ognuno dei donatori è stata effettuata una visita medica di idoneità e trovato un posto all'interno del programma di donazione che ha riguardato l'intera regione. Padova oltre a rappresentare un bacino di raccolta molto vasto è sede dell'unità operativa immunotrasfusionale che si occupa di rendere sicuro il sangue prelevato. La nostra attività nel centro di raccolta è aumentata di circa il 50% rispetto all'attività rutinaria quindi vuol dire che tutti gli operatori per un 50% in più del loro tempo sono impegnati a questa attività. Qui nella nostra sede dove facciamo altro tipo di attività sempre inerente al progetto siamo impegnati a almeno 4-5 persone e poi c'è la microbiologia per la parte diagnostica. Abbiamo molti donatori che vengono già nel nostro centro di raccolta ma non solo, facciamo un po' di riferimento a tutta la regione e per alcuni tipi di diagnostica tutti i prelievi arrivano qui e stiamo veicolando noi poi facendo il passaggio intermedio verso la microbiologia per dove vengono effettuati i test finali. Una volta sottoposto ai rigidi controlli di sicurezza il plasma viene immagazzinato secondo la concentrazione anticorpale presente così congelato può durare fino a due anni. Questa è la banca regionale del plasma misura preventiva per un possibile ritorno della pandemia il prossimo autunno. E noi adesso ci spostiamo in centro storico dove con un'ordinanza del sindaco Giordani sono state emanate le nuove regole, le nuove norme per i mercati all'aperto.